E' una montagna di rifiuti, un mega grattacielo d'oro per gli affari che consente ai suoi proprietari. Una mega discarica tra Lentini e Catania, alla quale fanno ricorso ben 255 comuni siciliani su 390, molto più della metà. E tra questi anche il capologo regionale Palermo. Ieri un blitz della direzione investigativa ha passato al setaccio tutti i siti dell'impresa, un colosso del business dei rifiuti, la Sicula Trasporti, per vagliare il rispetto delle norme di legge sotto tutti i profili, ambientale, amministrativo, lavorativo. La Sicula Trasporti appartiene alla famiglia Leonardo, imprenditori catanesi. A disporre l'ispezione è stato il prefetto di Catania Claudio San Martino. In campo, oltre agli uomini della DIA, gli agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza e gli ispettori del lavoro. I controlli hanno comportato l'acquisizione di atti e l'identificazione del personale presente nelle varie sedi, in vista di verifiche e di approfondimenti. I controlli nascono con una finalità di ispezione e prevenzione delle infiltrazioni mafiose, oltre che di verifica del rispetto e delle normative sul lavoro. La mega discarica della Sicula Trasporti si trova incontrata a grotte tra Catania e Lentini. Negli ultimi anni si è trasformata in una montagna che vale oro e accoglie i rifiuti di mezza Sicilia, oltre a quelli delle Isole Olie, un impero costruito anche grazie all'emergenza rifiuti in Sicilia e al fatto che quello della Sicula Trasporti è l'unico impianto che consente di separare i rifiuti dopo il conferimento, come previsto dalla legge. I legali dell'impresa, già ieri sera, al primo di fondersi della notizia, hanno voluto chiarire che si tratta di un normalissimo controllo rientrante nelle competenze del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di evitare la sussistenza di potenziali infiltrazioni mafiose nell'ambito delle attività di competenza della Sicula Trasporti. I difensori dell'impresa assicurano che è stata fornita ogni utile documentazione in linea con l'impegno per la legalità, perseguito contro il rischio, purtroppo sempre sussistente, di infiltrazioni criminali.